Pizzone II, è questo il nome del megaprogetto dell'Enel nei territori di Castel San Vincenzo, Pizzone e Montagna Spaccata, un cantiere per la costruzione di una nuova centrale elettrica che ha destato la protesta diffusa e generalizzata di politici, associazioni e istituzioni che si sono dati appuntamento a Castel San Vincenzo per un momento di riflessione e unità accompagnato dalla presenza dell'arte e della musica. Parla per la prima volta la sindaca di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta, una posizione equilibrata e istituzionale la sua. Il progetto è di grosso impatto, dice, e quindi dobbiamo confrontarci e capire bene tutti gli aspetti in gioco. È un megaprogetto, è un progetto che ha le sue dimensioni, è un progetto che ha i suoi pro e i suoi contro. Parleremo con l'Enel, l'Enel è venuto a trovarci, tornerà nella prossima settimana con dei tecnici dell'Enel, con i nostri tecnici, vedremo questo progetto, che cosa svilupperà. In questo momento dobbiamo solo aspettare e vedere che cosa va a succedere, qual è veramente l'impatto. Ci sederemo ai tavoli con i tecnici dell'Enel, nello stesso momento avremo anche degli incontri con la Regione, con il Ministero, con tutti e vedremo il da farsi. Nettamente contraria alla costruzione dell'impianto è la posizione del Parco Nazionale Lazio, Abruzzo e Molise. Noi la posizione l'abbiamo già espressa come tutti, per noi abbiamo sollevato una questione preliminare di fondo che prima ancora di entrare nel merito e nella valutazione del progetto abbiamo fatto rilevare che per noi il progetto non è proprio ammissibile perché, come è noto, i parchi sono dei territori in cui non tutto è consentito e la legge sulle aree protette vieta in particolare ogni modificazione del regime delle acque. Presenti alla manifestazione Stefania Passarelli per la maggioranza in Consiglio regionale e Alessandra Salvatore per la minoranza a testimonianza della trasversalità della battaglia dopo l'incontro in Consiglio con i rappresentanti dell'Enel dal PD è arrivata una mozione tesa a bloccare del progetto. Sì, abbiamo incontrato i rappresentanti dell'Enel che hanno chiarito da un lato la volontà di continuare ovviamente e ad arrivare all'esito della procedura di approvazione della nuova centrale di Pizzone 2 ma anche la volontà di desistere nel caso in cui i territori e istituzioni siano contrari a questo progetto. Rispetto a questo ovviamente questa parte delle dichiarazioni sicuramente ci dà la forza e anche la spinta per provare a dire no. Molti i musicisti presenti, tra questi Lino Rufo, Luigi Farinaccio, Caleidis a parlare e Piero Ricci. Mi sono avvicinato a uno strumento che è l'emblema di questi posti straordinari che è la Zampugna, composto tra l'altro un brano che si chiamava Mainarda che probabilmente fosse uno dei bravi brani che mi ha dato più notorietà e mi dispiagerebbe che questo territorio fosse in qualche modo danneggiato o deturpato. Tra le autorità presenti l'assessore all'ambiente della Regione Molise Andrea Di Lucente che valuta positivamente la sospensione di 120 giorni del progetto voluta dall'Enel stessa e guarda con favore alla ripresa del dialogo. Sicuramente siamo preoccupati per l'impatto che può avere sul territorio. Diciamo che io avendo più deleghe mi trovo un po' tra l'incudine e il martello perché ho la delega allo sviluppo economico però anche la delega all'ambiente quindi spesso e volentieri le due cose cozzano. Sicuramente una prima vittoria c'è stata di far rallentare il processo del progetto, si ritorna un po' all'inizio, si ritorna al dialogo con il territorio, al dialogo con la Regione che non c'era mai stato. Noi non eravamo a conoscenza, forse ne era a conoscenza qualcuno che l'aveva avuto prima di noi ma che non aveva ben fatto capire al territorio quali potevano essere le problematiche che potevano verificarsi. Oggi siamo qui con tanti amministratori per cercare uno per essere presenti, per essere vicino all'amministrazione, per essere vicino a tutti i sindaci della zona e cercare di capire in futuro attraverso un dialogo trasparente e quotidiano quelli che possono essere i problemi e quelli che possono essere anche i benefici di un'eventuale centrale.